Abbiamo chiesto che vengano trattate il più presto tutte quelle mozioni di sfiducia che riguardano i ministri del governo Renzi, in particolar modo la Lorenzin, la Giannini e il ministro Alfano. Per il ministro Alfano ci sono depositate quattro mozioni di sfiducia, quindi abbiamo chiesto che queste quattro abbiano la priorità. La cosa che ci ha lasciato perplessi è stato il voto astenuto da parte di Forza Italia e da parte del nuovo gruppo di Fitto. Ci chiediamo a questo punto da che parte stanno, se stanno dalla parte di chi sta combattendo in modo anche duro questo governo e soprattutto il ministro Alfano che sappiamo benissimo tutti che cosa sta facendo o se stanno dalla parte di chi governa oppure se hanno deciso di stare in mezzo. Se avessero deciso di stare in mezzo ancora una volta dimostrano di non rispettare il mandato degli elettori. Sono mozioni di sfiducia che riguardano tutti gli eventi che sono accaduti in questi due anni, in particolar modo la gestione maldestra dell'immigrazione, in particolar modo se pensiamo a quello che sta succedendo adesso con il ministro Alfano che ci manda migliaia di migranti nelle regioni del nord quasi per punirle per il voto che c'è stato al suo partito. riguarda la gestione durante l'inaugurazione, se vi ricordate l'inaugurazione di Expo a Milano dove Milano venne messa a ferro e fuoco, riguardano appunto tutta la gestione di quell'ordine pubblico che un ministro Alfano e un ministro dell'interno incapace, non è capace di gestire e di conseguenza noi chiediamo le dimissioni.